Eccolo qua benvenuto Pasquale possiamo darci del tuo benvenuto Sì sì assolutamente mi ritengo ancora moderatamente giovane Eccoci qui grazie mille per aver accettato Grazie per l'invito Ok io partirei diciamo da spiegare chi sei al pubblico che ci segue perché io ho cercato di spiegarlo lungo questa settimana visto che comunque credo che sia per me personalmente una delle più interessanti interviste di questo mese quindi se vuoi procedere vai pure Sì allora niente mi chiamo Pasquale Cirillo lo leggete sullo schermo e sono professore di scienza dei dati sono data science perché ovviamente fa più moderno lavoro in Svizzera sono alla ZV qui nel canton Zurigo il nostro campus in realtà è a Winterthur quindi 20 minuti circa da Zurigo prima di essere qua e fare professore di data science sono stato professore associato di probabilità in Olanda a Delft sono stato in Svizzera sono stato un po' in Francia regolarmente sono a New York dove ho una visiting position permanente a NYU New York University e questo dal punto di vista accademico mi interesso di probabilità applicata e in particolare di rischio all'interno della grande famiglia della probabilità applicata ogni tanto mi giro perché passano i treni abbiamo una bellissima il mio ufficio ha una bellissima vista sulla stazione che è andato a essere su questi trenini giocattolo e poi a parte la carriera accademica lavoro molto nel privato perché ritengo che per chi voglia lavorare con la probabilità della statistica sia fondamentale mantenere i piedi per terra quindi avere a che fare con i dati poi chiamarsi professore di data science e non usare i dati ma stare a chiacchierare basta di spazi topologici non avrebbe grande senso e quindi nulla ho collaborato con un po' di società in giro per il mondo un po' di istituzioni in giro per il mondo ho la mia società di consulenza e direi che è questo direi che può bastare direi che non è l'ultimo arrivato ecco come qualcuno in chat sostiene esatto esatto ma visto che parliamo di probabilità vabbè che c'era anche magari da citare Taleb eventualmente se ne avevi voglia però parlando di probabilità Taleb è uno dei miei coautori o io sono uno dei coautori di Taleb ecco diciamo c'è questa simmetria esatto per quanto riguarda appunto la probabilità volevo chiederti come stimeresti la probabilità relativa appunto all'esplosione di una centrale nucleare comunque un disastro atomico legato a una centrale nucleare perché noi in questi giorni soprattutto in questo periodo noi stiamo cercando di fare un po' di divulgazione sul tema del nucleare spesso e volentieri si cita questa probabilità e a mio avviso qualche volta anche un pochino a sproposito però volevo sapere se riuscivi a far chiarezza su questo tema sì allora è un ottimo esempio l'esplosione di una centrale nucleare allora bisogna prenderla un pochino larga ma relativamente larga non esiste non esiste va sottolineato che non esiste una singola definizione di probabilità esistono diverse definizioni di probabilità diversi approcci alla probabilità lo so che la maggior parte delle persone tende a pensare che la probabilità sia il limite della frequenza relativa quindi io guardo quante volte un evento si manifesta sul numero di osservazioni che ho e quindi dico se osservo per tantissimo tempo questo evento a un certo punto questa frequenza relativa a questo rapporto tra i casi in cui si manifesta l'evento e tutte le manifestazioni si stabilizza e quello è quello che chiamo probabilità ora questa è una delle definizioni la cosiddetta definizione frequentista la definizione frequentista è utile in molti casi ma ad esempio il caso di una centrale nucleare è esattamente quello in cui non te ne puoi fare nulla perché? perché l'esplosione di una centrale nucleare è quella che in probabilità chiamiamo fenomeno singolo nel senso che è una di quelle eventualità per nostra fortuna che non osserviamo tutti i giorni che non osserviamo tutti gli anni che non osserviamo neanche ogni cinque anni quindi pensare di avere dati a sufficienza per avere una frequenza limite è abbastanza sciocco per di più le diverse centrali nucleari non sono la stessa centrale nucleare quindi quello che può essere successo a Chernobyl non è quello che potrebbe succedere a una moderna centrale nucleare e tuttavia non solo questo un disastro nucleare può essere dovuto a diverse cause quindi può essere dovuto come conseguenza aggiuntiva di uno tsunami di un terremoto come abbiamo visto a Fukushima può essere un errore umano quindi sono cose molto diverse che non posso mettere all'interno dello stesso ombrello quindi in questo caso la frequenza relativa non la posso usare dovrei utilizzare approcci che sono pensati per quelli che sono detti fenomeni singoli o one shot quindi sono fenomeni che in generale non necessariamente si manifestano una sola volta però talmente poche volte che diventa inaccettabile aspettare dati o anche credere di avere dati in questo caso ci sono diversi approcci che possono andare dal propensionale al soggettivista che è quello che preferisco io in cui sulla base di conoscenze quindi osservazione anche di quello che è successo in altre centrali conoscenze di quello che ci dicono gli ingegneri nucleari di quello che ci dicono i fisici di quello che ci dicono gli ingegneri strutturali per la costruzione della centrale e così via possiamo cercare di elicitare quindi di esprimere una probabilità ora esistono modellini uno molto semplice è chiamata la regola del tre quindi è essenzialmente sono tutte regolette empiriche che possono poi essere derivate formalmente un altro modellino è l'uno su n quindi ci sono degli approcci un altro tipico modello è l'approccio baesiano in cui si assume che l'evento incidente nucleare segua una data di distribuzione di solito si assume che sia una binomiale ora non so quanti di voi siano a conoscenza della distribuzione binomiale comunque si assume questa distribuzione binomiale e su uno dei parametri di questa distribuzione binomiale che è la probabilità di successo che in questo caso sarebbe un successo discutibile che sarebbe quello dell'incidente quindi non lo chiamerei successo ma comunque si chiama probabilità di successo su questa probabilità di successo io posso esprimere un'ulteriore forma di incertezza e raggiungere a raggiungere a un modello che mi stima la probabilità una cosa molto interessante è che tra virgolette i modelli che vengono utilizzati per stimare la probabilità di collasso di incendente nucleare sono mediamente gli stessi che in finanza vengono utilizzati per studiare gli LDP Low Default Portfolios ovvero io ho un portafoglio di controparti per le quali è difficile osservare effettivamente un fallimento dal punto di vista storico immaginatevi un portafoglio delle più grandi banche ad esempio è vero che io posso osservare ed è osservato il fallimento di Lehman Brothers però ecco sono eventi piuttosto rari nel tempo potremmo dire quindi è molto difficile stimare con certezza una probabilità relativa appunto all'esplosione o comunque un disastro atomico un incidente nucleare mi pare di capire ti correggo subito stimare con certezza non si può sentire perché se stimo non è certo 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 la stima è imprecisa per sua stessa definizione ed è molto una qualsiasi stima una qualsiasi stima anche in casi molto più semplici quindi ci sono situazioni in cui noi abbiamo modelli che funzionano benissimo ma sono sempre stime la cosa più deleteria che si può fare è considerare una stima come una verità assoluta io quando vedo dire che il prodotto interno lordo il prossimo anno cresce dell'1% per quanto sia un pacifista ho una vibrazione di violenza perché un 1% non vuol dire nulla è una stima quindi tu mi devi dire un 1% con quale probabilità con quale intervallo di confidenza quindi non basta dire 1% e lo stesso nel caso di una centrale nucleare quindi nel caso in cui stiamo studiando un fenomeno one shot singolo l'incertezza è molto è molto alta poi abbiamo a nostro vantaggio una conoscenza tecnica tecnologica e scientifica che ovviamente non è quella di 50 anni fa 60 anni fa ma neanche di 10 anni fa e quindi possiamo cercare di contenere questa aleatorietà della stima ma ogni stima è in sé aleatoria quindi noi con i nostri modelli possiamo cercare di ridurre l'aleatorietà possiamo cercare di ridurre l'incertezza possiamo cercare di ridurre il rischio ma non si possono assolutamente annullare non solo il rischio in sé quindi il rischio di esplosione della centrale ma anche il rischio che la stima sia errata quindi bisogna purtroppo è questa bisogna accettare che non siamo esseri onnipotenti bisogna essere unici fantastico che allora dal mio errore comunicativo perché perdoni qua siamo sempre molto generici sotto certi punti di vista è nato un approfondimento su intervalli di confidenza e quant'altro secondo me può essere molto utile anche per capire alcune tematiche che abbiamo trattato ad esempio per dire il covid quando andavamo ad analizzare tutta una serie di dati in cui vedevamo anche l'intervallo di confidenza espresso una cosa importante quando ci sono gli intervalli di confidenza aneuristica è l'intervallo di confidenza deve esserci perché se qualcuno vi dà una previsione senza intervallo di confidenza è un celtrone in quel caso si chiama intervallo di previsione ma è essenzialmente la stessa cosa quindi se vi viene data una stima sul futuro quindi una previsione 3% o 300 qualsiasi cosa e non vi viene dato un intervallo di previsione è già probabilmente una celtronata ma questo intervallo di previsione per avere un senso deve essere abbastanza stretto quindi se io dico che domani sto inventando dei numeri ovviamente assolutamente inventando dei numeri domani il numero di contagi è 100 secondo le mie previsioni e questo numero al 95% è corretto perché posso stare tra un 97 e un 103 quindi diciamo 100 mediamente è una cosa se l'altra dico al 95% è tra 0 e 200 è un'altra e purtroppo durante il covid abbiamo visto delle previsioni in cui da un giorno all'altro ci dicevano domani i contagi stanno tra 0 e 200 mila e io grazie allora tiro la monetina essenzialmente la stessa cosa sembravano le previsioni di Paolo Fox a un certo punto no le previsioni di Paolo Fox sono più affidabili fantastico sì dalla chat mi chiedono se a suo avviso a tuo avviso appunto un governo che prende decisioni sulla base statistica diciamo soltanto sulla base dei dati della statistica più o meno poi seconda dell'approccio che si utilizza ovviamente potrebbero uscire anche dei risultati diversi però è più diciamo è più ospicabile rispetto a quello che vediamo oggi cioè governi che scelgono sulla base diciamo del consenso elettorale e quanto durerebbe eventualmente allora no secondo me allora dobbiamo dobbiamo distinguere soprattutto se parliamo di rischio quindi decisioni che poi possano generare degli impatti negativi per noi con una qualche probabilità quindi stiamo addirittura tagliando fuori l'incertezza che sarebbe il caso in cui io neanche so cosa mi può succedere quindi in quel caso ancora peggio però diciamo rischio dove più o meno posso tentare di calcolare o approssimare quello che mi possa aspettare ora la valutazione del rischio è qualcosa che benché la vulgata e quello che sentiamo in televisione viene spacciata come qualcosa di oggettivo in realtà è qualcosa di soggettivo soggettivo perché non la puoi svincolare dal valutatore o dai valutatori quindi se c'è un comitato tecnico saranno i valutatori quindi innanzitutto c'è questa componente che non è un male ci deve essere perché sarebbe distopico un governo che decidesse solo sulla base dei dati un governo che decidesse solo sulla base dei dati sarebbe distopico perché una cosa è il dato una cosa è il fatto una cosa è il giudizio di valore quando io prendo una decisione vi faccio un esempio un esempio molto semplice noi dobbiamo quantificare l'impatto del covid ok dobbiamo quantificare l'impatto del covid ora se dobbiamo quantificare l'impatto del covid dobbiamo trovare una metrica dobbiamo decidere come lo misuriamo questo impatto del covid purtroppo vedi anche persone che vogliono valutare in qualche modo economicamente l'impatto non che non si debba valutare economicamente ma fatto ovviamente è una dimensione fondamentale della nostra vita quindi non si può prescindere dalla parte economica però c'è gente che tende a essere un po' troppo riduzionista quindi vuole valutare l'impatto del covid ad esempio guardando alle ore di lavoro perse ok ora io le ore di lavoro perse le posso avere perché qualcuno sta a casa malato assumiamo che consideriamo solo chi lavora ok chi effettivamente lavora quindi semplifichiamo i disoccupati che sono una tragedia non li consideriamo solo i lavoratori ora uno può perdere ore di lavoro perché sta a casa malata qualche giorno e poi torna o uno potrebbe perdere ore di lavoro perché muore allora io le stesse ore di lavoro perse le posso ottenere perché mi muore una persona e quindi perdo tutte le sue ore di lavoro potenziali fino alla pensione o perché alcune decine di persone stanno a casa una settimana e il totale delle ore sarebbe lo stesso quindi se io guardo i dati le due opzioni sarebbero tendenzialmente la stessa cioè se io ho che perdo in un caso mille ore di lavoro e nell'altro caso mille ore di lavoro sono indifferenti dal punto di vista dei dati non sono indifferenti dal punto di vista delle scelte di valore quindi non sono indifferenti se devo decidere che va bene se una settimana mi stanno qualche decina di persone a casa rispetto al fatto che mi muoia una persona quindi se io devo bilanciare la morte contro una malattia temporanea ho delle dimensioni aggiuntive rispetto alle semplici ore di lavoro quindi se io guardassi solo il dato senza poi mettere questo dato in una scala di valori in una certa rappresentazione che ovviamente sarà sempre relativa alla nostra società al nostro modo di pensare e così via e purtroppo lo vediamo lo vediamo quotidianamente anche quando ci sono le morti sul lavoro avete mai notato che quando muore un italiano paginate quando muore un immigrato tra filetto certo perché l'importanza è diversa perché siamo così perché noi umani siamo meno bravi di quanto vogliamo raccontarci si vende molto di più sotto certi punti di vista quindi io un governo che guardassi solo al dato lo vedrei come distopico preferibile a quello che invece guarda solo diciamo il volere delle masse e quindi è demagogico forse no anzi forse continuerei a preferire quello demagogico perché comunque posso cercare di pensare che nelle masse ci sia un certo bilanciamento di interessi l'ideale sarebbe un governo che sapesse guardare dati li capisse e poi prendesse decisioni ragionate assumendosi la responsabilità perché poi il rischio se no se c'è questa usannazione dei dati il rischio è che io stabilisco un modellino che di solito è un file orrendo Excel nel quale metto alcuni numeretti e mi viene fuori un risultato e poi se la base di quel risultato se è superiore a 5 faccio questo se è inferiore a 5 faccio quest'altro e non mi prendo nessuna responsabilità e se qualcuno mi dice sì ma questa decisione è sciocca io dico i dati dicono questo c'è il rischio che si faccia un po' come si fa con la scienza in questo periodo storico perché la scienza dice questo quando poi magari realmente in fondo è una scelta politica sì purtroppo noi viviamo in un periodo in cui la scienza c'è la scienza funziona la scienza fa il suo lavoro e lo vediamo ma in media c'è lo scientismo che è un'altra cosa quindi c'è questa o ci sono media che ovviamente seguono solo la pancia del paese quindi tutti gli scienziati sono tutti corrotti hanno tutti interessi o quegli altri che sembrano tutti tutti gli scienziati sembrano apparizioni di Fatima e quindi sono depositari del vero mentre la scienza tende a ad evolvere sulla base anche dei dissidi interni è un discorso complicato perché la scienza funziona così se io riesco a dimostrare qualcosa tutti gli scienziati lo accettano ma nel momento in cui arrivasse uno che fosse anche l'ultimo arrivato che mi dimostra che quella cosa non è più vera perché non era mai stato considerato qualcosa oppure una delle assunzioni era sbagliata o non avevamo gli strumenti per misurare in modo corretto tutti gli scienziati cambiano di opinione quindi si può cambiare opinione si deve cambiare opinione è ovviamente fondamentale sulla conoscenza che è ancora in progresso quella che si sta formando ci sono tantissime opinioni divergenti è in tutte le branche non solo nelle scienze sociali nelle scienze umane nelle cosiddette scienze dure la matematica la fisica nella conoscenza di frontiera che non è quella consolidata su quella consolidata siamo tutti d'accordo e se tu non sei d'accordo o dimostri perché o se no sei un cialtrone basta non si sta neanche a discutere ma su quella di frontiera tu puoi benissimo avere opinioni differenti rispetto agli altri quindi c'è una discussione e poi la comunità avanza perché ci sono nuove scoperte ci sono nuovi risultati e così via questa visione degli scienziati che sono sempre tutti d'accordo è un problema e lo si vede anche nella comunicazione Covid perché il CTS non per colpa del nostro CTS funziona così in tutto il mondo i comitati tecnici a un certo punto devono venire fuori con un parere ok e questo parere di solito è una mediazione delle diverse visioni interne al CTS però però cosa succede il pubblico vede solo questo parere e pensa che quello sia la verità che è condivisa da tutti i membri no quello è un compromesso quello è un compromesso e se da un lato ha dei vantaggi perché tende a tener conto delle diverse opinioni però essendo un compromesso toglie di mezzo ad esempio le posizioni più estreme estreme ma ragionevoli non complottismi perché ovviamente si spera che non CTS non ci siano quindi tende a tagliare queste code estreme e quello è un problema perché come nelle previsioni se io faccio una serie di previsioni e poi prendo la media perdo informazioni riguardo alle previsioni più estreme quelle o molto buone o quelle molto cattive ma io dovrei essere in grado di prepararmi a quelle molto cattive non solo alla media perché la media mediamente riesco a gestirla sono le osservazioni che si discostano molto dalla media a creare i problemi e infatti col covid lo abbiamo visto perché noi all'inizio abbiamo avuto tantissimi scienziati che poi si sono ravveduti che continuavano a dire pur non sapendolo perché non c'era informazione all'influenza e a me fanno ridere quando quelli che inizialmente dicevano no ma è un'influenza abbracciamoci tutti no ma le mascherine non servono ma chi se ne frega ma poi passa poi poi c'è un problema dei cinesi noi qua non ce l'abbiamo e così via poi sono passati completamente dall'altra parte e tuttora continuano a oscillare da una parte all'altra sulla base della trasmissione televisiva che li che li invita quello non è scientifico quello è degradante per una persona di scienza è altamente degradante ma beh non ci si può fare nulla in quel caso lì ognuno è responsabile di di se stesso cioè come quando si affermava che ad esempio il vaccino non avrebbe mai e poi mai concesso il contagio magari mesi prima dall'entrata del vaccino stesso in circolazione quello è un grandissimo problema di comunicazione cioè la gestione del rischio non si limita a stimare il rischio ok è una parte fondamentale è ovviamente una parte fondamentale così come fondamentale nel momento in cui io stimo i rischi e sappiamo tutti che viviamo in un mondo di risorse limitate che è un discorso un po' economico ma è effettivo nel senso risorse limitate non vuol dire solo soldi vuol dire anche persone e l'abbiamo visto col covid se mancano gli infermieri se mancano i medici se mancano gli anestesisti mancano le persone non è un problema di soldi è un problema di persone può mancare il tempo perché io non ho abbastanza tempo per implementare una strategia quindi io ho tantissimi vincoli quindi devo anche cercare di decidere quali sono i rischi che devo come dire con i quali mi devo adoperare in modo precipo quelli che devo affrontare per primi quindi devo fare una classifica dei rischi e man mano che avanzano le risorse scendo giù nella classifica però se io devo decidere se salvare delle persone o evitare che mi si graffi la macchina io posso anche dire vabbè mi si graffia la macchina per me è un rischio ho capito però se permetti viene dopo il fatto che magari muoiano delle persone quindi se riesci a salvare le persone e ti si graffia la macchina amen se poi riesci a fare entrambe le cose meglio nessuno dice che devi graffiare la macchina per forza quindi ma il problema principale è che una volta che tu hai fatto tutte queste tue lucubrazioni hai fatto tutti questi calcoli hai fatto i tuoi compiti a casa dovresti essere in grado di comunicarli e comunicarli non vuol dire che li comunichi al tuo collega d'ufficio che dovrebbe saperle queste cose e ha gli strumenti per capire queste cose tu le devi comunicare al pubblico e il pubblico è fatto da una miriade di soggetti più o meno istruiti magari istruitissimi ma in un campo di competenza che è diverso dalla centrale da sapere la fisica nucleare o l'ingegneria nucleare quindi tu sei un dottore ultra specializzato in cardiochirurgia infantile non è che tu debba essere un esperto di ingegneria nucleare sei già abbastanza esperto di una cosa fondamentale ci specializziamo per questo la nostra società quindi tu devi essere fondamentalmente abile a comunicare e non è detto che lo debba fare lo scienziato che ha fatto i calcoli lo deve fare qualcuno che lo sa fare perché se lo scienziato arriva e ha sprombattuto e comincia a dire vaccinatevi perché poi finisce tutto vaccinatevi perché poi non si contagia vaccinatevi perché poi cade la manna dal cielo quando poi questo non succede è difficile recuperare con AstraZeneca cioè non puoi di passare giornate intere a dire eh ci sono gli effetti avversi e poi dire alla gente ma perché non ti vaccini cioè non è non lo so diciamo la fiducia cioè la fiducia viene proprio a mancare crolla ma perché ci vuole coerenza ci vuole coerenza e umiltà umiltà vuole anche dire non lo so vaccinati perché ti posso dire che gli studi ci danno un buon buona confidenza sul fatto che questo vaccino ti protegga dalla malattia grave e a me sembra già una cosa meravigliosa se è la la soluzione a tutti i mari del mondo non te lo so dire ti posso dire che i rischi avversi sono molto bassi esistono ma sono molto bassi i vantaggi nel vaccinarti sono alti ma non puoi dire che è la soluzione a tutto perché poi quando la gente vede che non è vero quelli che ti hanno creduto si sentono traditi e quelli che non ti credevano dicono ahah hai visto avevo ragione io e quindi da un lato perdi la fiducia di quelli che già sarebbero dalla tua parte e dall'altra fomenti tantissimi mentecati perché il mondo ci sono e mentecati è un fatto di distribuzione esatto e quella è una delle poche distribuzioni abbastanza normali quindi 50% della popolazione è sotto la media purtroppo ecco un'altra cosa che hai citato e probabilmente diciamo che era sotto il tuo discorso probabilmente almeno io l'ho letto è il concetto di rischio zero ne abbiamo parlato spesso e volentieri cioè questo rischio zero non esiste è una bugia esiste se me lo spieghi volentieri esiste il rischio zero wow sì se fai fuori l'umanità se tu fai fuori tutta l'umanità esiste il rischio zero no perché stavo per buttarvi a un master in e-city il rischio zero allora il rischio ma la cosa buffa è che questa cosa se come umanità quindi come memoria dell'umanità la sappiamo da millenni cioè le prime le primi ragionamenti su questi argomenti li ritrovi veramente nei testi sacri delle religioni tu puoi credere o no ma insomma tutti i testi sacri delle religioni sono testi fondamentali per l'evoluzione umana io non sono credente ma anche posso dire che la Bibbia non abbia avuto un impatto sulla storia dell'uomo che il Corano non abbia avuto un impatto sulla storia sarebbe una stupidaggine ora c'è il test uno dei testi sacri dell'induismo che si chiama Bhagavad Gita ecco là è stato redatto da diverse un po' sai come i Vangeli come la Bibbia non si sa chi l'abbia scritto in realtà si dice degli Apostoli ma non si sa là sono i primi tra i primi a dire che dove c'è l'umanità c'è il rischio poi ci sono rischi più grandi e rischi più piccoli ma io il tipico esempio che faccio è quello di un terremoto ora prendiamo un terremoto abbiamo avuto il terremoto anche avete avuto perché insomma io sono in Svizzera però avete avuto il terremoto in Emilia qualche giorno fa ok prendiamo quel terremoto ok che non è stato per fortuna un evento devastante ha spaventato tantissime persone ed è del tutto normale e razionale avere paura perché la paura è un'ottima gestione del rischio ma ora quel terremoto se tu sei a Modena quel terremoto lo vivi in un certo modo se tu sei a Roma quel terremoto lo stesso terremoto a Modena lo vivi in un altro modo io in Svizzera lo vivo in un altro modo qualcuno in Scandinavia lo vive in un altro modo ma non perché siamo cattivi cioè non è che io me ne frego se in Emilia c'è un terremoto è ovvio che mi preoccupo ho amici ho conoscenti ho colleghi quindi mi preoccupo ma è una preoccupazione che viene dopo e non è la preoccupazione di scappare di casa perché mi crolla in testa quindi noi abbiamo paura del terremoto quando ci accade molto vicino lo stesso terremoto mille chilometri più in là è un'altra cosa l'evento è lo stesso è un terremoto ma la nostra reazione al terremoto la nostra valutazione del rischio del terremoto è diversa lo stesso terremoto in Australia è lo stesso non è che siamo contenti se gli australiani hanno un terremoto se uno è contento perché gli australiani hanno un terremoto ecco in quel caso lì diciamo che il bonus psicologo potrebbe essere utile per quanto a me non sembra una cosa ma anche un TSO lo stesso terremoto sulla superficie di Marte ma chi se ne frega se io sono uno scienziato che sta studiando Marte sì è molto interessante ma anche come scienziato non lo percepisco come un rischio lo percepisco come un evento affascinante che mi interessa lo stesso terremoto in qualche pianeta sperduto nell'universo che noi manco sappiamo esiste non esiste per noi perché quell'evento lì è fuori dall'umanità in questo momento quell'evento è fuori dall'umanità quindi se tu hai qualcosa di umano hai il rischio non lo puoi azzerare rischio zero è proprio una cosa rischio zero vuol dire faccio fuori tutti facciamo così facciamo fuori tutti tranne Pasquale che così raccoglie i dati ed è contento ed è sociale quindi è contento ma anche lì non ci sarebbe rischio zero perché a Pasquale potrebbe succedere qualcosa quindi non ci sarebbe mai il rischio zero a meno di annichilire l'intera umanità in quel caso possiamo dire che sì c'è rischio zero io posso minimizzare il rischio certamente lo posso fare posso contenere il rischio posso cercare di coprire il rischio posso cercare di spostare il rischio perché anche lì ci sono casi in cui effettivamente posso cercare di minimizzare talmente tanto il rischio che posso dire sono quasi un rischio zero ma per il rischio esiste una specie di legge della conservazione della materia cioè io creo il rischio lo posso coprire lo posso dare sul gruppone a qualcun altro ma difficilmente lo posso cancellare in finanza è l'esempio di tutte le cartolarizzazioni prenditi il mio rischio eccolo ma ce l'hai tu ce l'hai tu in saccoccia io non ce l'ho più ma ce l'hai tu non è che è sparito quel rischio ci illudiamo di farlo sparire ma non sparisce quindi rischio zero no non esiste assolutamente non esiste si può contenere certo siamo qui apposta nel senso se uno si occupa di queste cose ha una qualche speranza di poterlo contenere poi ci sono situazioni che non si possono sulle quali tendenzialmente bisogna fare come diceva Wittgenstein bisogna tacere lui lo diceva dal punto di vista morale ma si può dire anche per quanto riguarda il rischio ci sono delle situazioni in cui bisogna accettare di essere essere limitati quindi è inutile che io voglia azzerare qualsiasi rischio io posso non uscire di casa perché così annullo il rischio di essere investito da una macchina sì vabbè mi può crollare il tetto in test può arrivare il terremoto di cui parlavamo prima non c'è la possibilità di azzerare il rischio lo so che può sembrare estremo ma è la realtà dei fatti purtroppo noi ci illudiamo di poter fare molte più cose di quelle che effettivamente possiamo fare per chi è un pochino dentro la finanza è veramente uno dei campi ora io ne parlo spesso perché poi spesso lavoro con gente nella finanza faccio consulenza in ambito finanziario sempre sul rischio però quello è veramente un campo dove la gente usa dei modelli nei quali in qualche modo perché li ha imparati all'università crede ma che sono totalmente farlocchi cioè lo sappiamo che non funzionano o meglio funzionano quando non devono funzionare cosa vuol dire quando tutto va bene il mercato cresce sì io c'ho un modello ma chi se ne frega ma non funzionano quando dovrebbero ossia cresce nel 2007 esatto esatto che per quanto si è utilizzata la cartolarizzazione poi alla fine comunque sì ma poi tutti i modelli standard non hanno previsto il fallimento di Lehman Brothers perché perché ovviamente non era mai stato osservato prima un fallimento simile quindi se tu guarda troppo no ma anche se tu se tu stai a guardare la probabilità di accadimento di un evento come una frequenza relativa quindi come il rapporto tra se non hai mai avuto Lehman Brothers se il numeratore è zero se il numeratore è zero la tua probabilità è zero ma ora voi possiamo credere in modo razionale che se una cosa non è mai successa prima non possa succedere perché se è così allora che cavolo le vediamo a fare le Olimpiadi il nuovo record il nuovo record nello slalom dove fa nella corsa ma cosa le guardiamo a fare tanto se non è mai successo prima non può succedere cosa le guardiamo a fare che vede uno che fa sempre le stesse cose sta gente che gira in mutande in una pista no lo guardi sperando che quello del tuo paese della tua squadra vinca e sia meglio di quello che abbiamo già visto quindi lo concepiamo nello sport lo concepiamo in tantissimi campi e poi dove serve nella gestione del rischio no il peggio che ci può succedere è quello che è successo prima che è un po' pericoloso perché se io devo costruire un ponte e prendo il massimo storico come il massimo assoluto è problematico perché il vento può essere molto più veloce di quello che abbiamo visto finora un terremoto può essere più forte di quello che abbiamo visto finora un'inondazione può essere maggiore di quella che abbiamo visto finora lo sappiamo quindi perché devo legarmi le mani da solo e quindi lì cosa si fa cioè nel senso come posso cioè ho trovato mettiamo un massimo locale di questa distribuzione che non conosco nella sua interezza beh allora come faccio a trovare un massimo molto più alto non lo so ipotizzo e sparo al posto di 7 diventa 8 allora innanzitutto devo cercare di capire che tipo di fenomeno sto analizzando ci sono fenomeni che hanno dei massimi naturali che noi quelle che si chiama limite superiore upper bound questi possono essere dei valori che noi non abbiamo mai osservato ma che sappiamo da un punto di vista fisico ad esempio esistono cioè noi non li abbiamo osservati ma sappiamo l'esempio l'altezza umana è uno di quei casi in cui è molto facile tutte le misure biologiche le misure cioè se noi prendiamo il corpo umano l'altezza il peso la lunghezza dell'avambraccio qualsiasi cosa quindi quelli che poi si vantano di avere particolari prestazioni è normale quindi non è che ci possano essere una coda del 20% no quindi qualcuno dice le bugie ok sono tutte quantità normalmente distribuite o meglio normalmente approssimate perché la sappiamo che la normale va da meno infinito a più infinito e l'altezza umana non va da meno infinito a più infinito ok sotto zero non posso andare ma anche molto più su più di zero e a più infinito non posso andare però diciamo la normale approssima decentemente questo questo andamento dell'altezza umana ecco noi sappiamo ce lo dice la biologia ce lo dice la la fisica ce lo dice la fisiologia che il corpo umano non può superare determinate altezze le giraffe per essere così alte hanno delle particolari strutture nel collo per portare il sangue fino a quel cervello così alto il nostro corpo non sarebbe in grado la biologia ci dice che valori intorno ai tre metri sono ancora possibili quindi noi non l'abbiamo mai visti perché se non sbaglio l'uomo più alto del mondo era intorno ai due metri e settanta possiamo anche dire va bene la biologia magari è conservativa arriviamo a tre metri e mezzo ma un uomo una donna di sei metri no non ci possono essere non potrebbero sopravvivere quindi in quel caso esiste un massimo naturale che noi non abbiamo osservato ma che posso tenere in considerazione nel mio modello se io faccio un modello predittivo in cui assù prevedo che l'altezza delle persone tra 50 anni sia 9 metri uno mi dice figlio del sole magari no allo stesso abbiamo un limite inferiore ora un limite ovvio è zero per il semplice fatto che non abbiamo un'altezza negativa non si può avere un'altezza negativa però se guardiamo al Guinness se non ricordo male anche lì siamo intorno ai 54 o è 55 55.4 54.5 vabbè siamo intorno a quell'interno di altezza che tra le altre cose un uomo adulto in India che se non ricordo male insomma è arrivato a una bella età parliamo quasi a 90 anni quindi insomma veramente una persona che ha vissuto una vita completa non qualcuno che è morto alla nascita o cose del genere quindi questi sono dei limiti che chiamiamo naturali poi ci sono degli eventi in cui questi limiti non esistono o sono talmente lontani che per noi sono approssimabili dall'infinito ma anche lì dipende da quello che vogliamo fare perché se io prendiamo la pandemia se io faccio una previsione a breve termine su una pandemia posso anche assumere che non esista un limite superiore perché questo limite superiore che possiamo assumere essere la popolazione mondiale è talmente lontano e speriamo ci stia che lo possiamo prendere come un limite aperto ma se io dovesse avere un modello e li abbiamo visti in cui c'erano queste crescite esplosive e nel giro di tre mesi ammazzavano 10 miliardi di persone ma non siamo 10 miliardi ma com'è possibile ammazzare 10 miliardi se non ci sono 10 miliardi di persone senza contare che all'inizio non consideravano la rinfezione sì poi vabbè l'epidemiologia è una una scienza in realtà è una branca tra la medicina e la statistica però è una disciplina molto difficile e molto interessante e fa delle cose bellissime il problema è poi come viene banalizzata sui media questo è un altro problema o quelli che hanno quelli che io all'inizio del 2020 chiamavo i patiti di Excel che facevano tutte queste estrapolazioni con tre punti pittavano una io tre punti ci faccio passare una curva e esplò cioè dopo un mese uccidevano ma non è che uccidevano solo i terreni dovevamo insegnarli a usare il flourish quel giorno così almeno uccidevano i marziani uccidevano i saturniani uccidevano i plutoniani tutti nel zero di un mese si ammazzava tutto il sistema soprattutto il sistema solare poi iniziavamo a ammazzare le formiche perché non bastavano quindi bisognava uccidere chiunque poi ci sono delle situazioni in cui non esiste almeno a nostra conoscenza guardiamo le dimensioni dell'universo ecco quello è una delle situazioni in cui stabilire se c'è un limite c'è chi dice che ci sia c'è chi dice che non c'è dipende dalle teorie quindi per tornare al discorso di prima cioè gli astronomi gli astrofisici si scannano per dire se l'universo è in contrazione in espansione si può contrarre per sempre no? si contrae poi torna un puntino poi riesplode e poi non si sa cosa succede cioè guarda Pasquale io volevo chiederti un'altra cosa perché qua in chat mi chiedono come si fa ad approcciarsi alla statistica cioè qual è il percorso che tu consigli? beh allora la cosa che io consiglio dipende a che punto della vita uno si vuole approcciare alla statistica se è una materia che interessa e quindi uno sta uscendo ad esempio dalla scuola superiore facoltà di scienze statistiche è la cosa più più naturale perché statistica bene o male ormai si trova in qualsiasi facoltà almeno un esame di statistica per quanto pessimo si trova il problema è che ad esempio se uno tende a fare statistica sotto una facoltà specifica poi ci sono facoltà che ovviamente hanno più statistica di altre come economia come matematica come fisica anche se poi diventano spesso esami opzionali cioè io ho un paio di esami obbligatori e poi che faccia matematica che faccia matematica applicata che faccia fisica posso scegliere di incrementare questi esami a scienze statistiche si fa solo quello più un'infarinata di qualcos'altro a seconda della specializzazione che uno vuole prendere se è più industriale più economica quindi quelle e ci sono delle buone facoltà decisamente delle buone facoltà in Italia se pensiamo a Padova ad esempio se pensiamo a Milano Bicocca ad esempio ci sono delle buonissime facoltà ci sono alcune facoltà Pasquale anche a Roma che studiano la probabilità di essere colpiti da un fulmine ho saputo mamma mia mi astengo no lo dicevo ieri dopo due anni sono due anni e c'è la gente che continua a paragonare il covid cioè morire di covid e morire per un fulmine che poi è la variante 2022 del morire mangiato da uno squalo morire cadendo dalle scale morire perché non lo so si prende una randellata in testa qualsiasi tipo di morte la cosa fondamentale ora si può pensare quello che si vuole delle misure di contenimento io non ne voglio parlare ma non mi si può dire che il covid è un fulmine sono la stessa cosa un fulmine ammazza me se Umberto Ivan e Francesca sono vicini a me in quel momento lì c'è una buona probabilità che prenda anche loro ma 50 metri più là non succede nulla il fulmine ammazza me ammazza quelli che mi tengono per mano e facciamo un balletto e basta il covid lo prendo innanzitutto posso morire io nel frattempo posso infettare altra gente quindi stiamo confondendo un evento che chiamiamo dal punto di vista statistico uno è un evento additivo perché per avere la somma praticamente devo sommare semplicemente il numero delle vittime come nel caso degli squali tolte situazioni veramente locali se io ho due surfisti così sfigati da essere vicini quando arriva lo squalo e magari se li mangia tutte e due o do un morso a tutte e due muoiono tutte e due distanguati sì ma un surfista e uno a 200 metri quello a 200 metri o non se ne accorge neanche o magari fa in tempo a scappare quindi automaticamente è salvo nel covid o in qualsiasi malattia in qualsiasi malattia infettiva io contagio le altre persone cioè io contagio le altre persone che a loro volta possono contagiare a loro volta possono morire e quindi c'è una diffusione quello è un quello è un tipo di evento moltiplicativo gli eventi additivi sono eventi tendenzialmente incapaci di generare code grasse quindi di generare eventi veramente estremi come un numero alto di morti gli eventi moltiplicativi invece nel più delle volte va bene pensate a SARS o a MERS certo molto peggio di covid come malattie ma siamo stati fortunati perché se non fossimo stati fortunati altro che covid che la mortalità era tutt'altra cosa per tutte le fasce di età non ci sia non si stava più a discutere di con il covid senza covid per tutte le preposizioni cioè siamo stati fortunati noi spesso come umanità siamo fortunati ma non è che si può assumere di essere sempre fortunati e infatti la cosa ridicola è che paesi che sono stati relativamente scottati da SARS come Taiwan hanno detto ma sai che c'è io imparo la lezione e mi preparo non si sa mai succedesse qualcos'altro di simile noi che invece non ci ha toccato ma chi se ne frega che è molto italiano è la cosa bella scoprire quanti italiani ci siano nel mondo cioè gli inglesi sono italiani francesi sono italiani tedeschi sono italiani gli svizzeri sono italiani gli scandinavi sono italiani gli americani sono italiani gli argentini sono italiani siamo tutti italiani franno Taiwan e chi se ne frega faccio le corna chiamo prendo San Gennaro prendo un fornetto e sono a posto e sono stato fortunato perché San Gennaro mi ha fatto la grazia ora San Gennaro perché io sono mezzo partenopeo penso si capisca dal nome che le origini sono quelle poi io sono nato e cresciuto in Toscana però diciamo che la parte partenopea della mia famiglia è importante quindi ce l'ho con San Gennaro ma Sant'Antonio da Padova va bene qualsiasi santo volete a cui volete votare Santa Caterina quello che volete va bene c'era la lingua mi pare nella cattedrale di Sant'Antonio qualcosa di questo tipo eh sì le religie sì sì va bene va bene quindi il sì no no vai 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 chiudi pure no quindi quello che dico è che niente tutte queste cose vanno prese con con coscienza quindi chi paragona e fu quello è un grave errore perché e poi è un grave errore perché se lo fa non lo so Luigi da boh non lo so da Castagneto Carducci va bene amen lo fa Luigi che è come se andassi al bar e amen se me lo fanno le Viro Star è un altro problema che Luigi da Castagneto Carducci lo sente il suo amico sua moglie la sua compagna se ce l'ha o il suo compagno se ce l'ha che magari dice ma cosa ho fatto di male a mettermi insieme a questo certo ma il virologo Star su una trasmissione che mi dice morire di covid è come è meno pericoloso di essere mangiato da uno squalo prima lo dicevano prima dicevano all'inizio dicevano eh ma il covid è meno pericoloso di essere mangiato da uno squalo ma in realtà quella si chiama fallacia della dimensione si chiama fallacia della dimensione io non posso paragonare rischi indipendenti in classi di rischio differenti cioè io posso paragonare il rischio quando guido di schiantarmi contro un tir posso paragonarlo con il rischio di uscire di strada posso paragonarlo con il rischio di essere colpito a mia volta quindi non essere neanche responsabile sì perché quelli sono tutti collegati ma non posso paragonare il rischio di fare un incidente stradale con il rischio di essere colpito da un fulmine sono due cose diverse poi se faccio un incidente stradale perché sono colpito da un fulmine vabbè vabbè ok c'è anche quell'eventualità magari sono colpito da un fulmine muoio di covid nell'incidente stradale allora in quel caso sono collegati ma tendenzialmente non è così certo abbiamo capito più o meno penso sia stata una lezione fantastica di logica del rischio tra l'altro tu hai anche un podcast corretto sì esatto dove lo trovano omonimo la logica del rischio si chiama la logica del rischio e su tutti su tutte le piatta Spreaker Google Podcast Amazon Podcast Spotify Spotify sì sì io lo carico su Spreaker poi da Spreaker praticamente è anche su YouTube nel senso sul mio canale YouTube compare come questo inutile video dove c'è ovviamente solo la voce perché viene fatto in streaming automatico ok su SoundCloud è da tutte le da tutte le parti siamo alla sesta puntata ora la settima esce il giovedì abbiamo iniziato definendo cos'è il rischio poi un pochino il concetto di danno perché il rischio è l'eventualità di un danno più altra roba abbiamo definito cos'è il danno come si può definire il danno e poi l'eventualità come probabilità e la cosa che sto sottolineando molto come vi ho detto all'inizio è che la probabilità non è un numero sul quale tutti siamo d'accordo cioè la gente si scanna da decenni su che cosa sia la probabilità se è qualcosa che esiste in sé quindi qualcosa di oggettivo o qualcosa di soggettivo o qualcosa una via di mezzo quindi se vi interessano tanto è parlato non c'è grande formalizzazione matematica 30 minuti mi pare una cosa di questo tipo è sempre una mezz'ora sì sì una mezz'ore perfetto perfetto vabbè allora noi consigliamo ancora di seguire Pasquale dottor Pax su twitter anche sì dottor Pax è l'account stupido in italiano se no c'è dr doctor all'inglese Cirillo ah vabbè io seguo solo dottor Pax dr Cirillo è quello accademico è dove metto le cose serie questo mi mancava ma è in inglese quello è in inglese perché è quello accademico ok e l'altro sì è quello è quello in italiano ma ecco ma andrò a seguirti anche in quello accademico allora dottor Cirillo è nato ovviamente da dottor Pax poi dottor Pax si chiama così semplicemente perché quando mi sono laureato essendo stato il primo nella mia compagnia di amici me la duravano e mi prendevano per i fondelli che ero dottore è rimasta va bene grazie davvero grazie per stare grazie a voi buona giornata buona giornata alla prossima grazie